Amsic con una meraviglia trova Armero che comincia a correre e già in forma il colombiano trova poi Insigne, è un ottimo europeo under 21, il cross dentro per Pandev in posizione regolare, il primo gol al San Paolo della nuova stagione è di Goran Pandev, d'estate non sbaglia un colpo il Macedone Napoli 1, Galatasaray 0, sulla pennellata di Insigne Snyder vuole far correre l'ottimo Amrabat che arriva sul pallone punta in uno contro uno l'area di rigore su Mesto Saccentra Amrabat che segna un gran gol, quello dell'1-1 applausi del San Paolo anche per il gol degli avversari perché è un gran gol di un grande gioco pubblico no dentro per Insigne trovato bene si punta dentro Zuniga Insigne prova a servire la posizione regolare Zuniga è solo Zuniga porta a vuoto Zuniga il gol del Napoli lo segna Zuniga e il gol del 2-1 il pubblico adesso applaude Zuniga ha trasformato i fischi in applausi veramente una grandissima azione un giocatore che si è predisposto molto bene nel servire il compagno è un rigore di Insigne che può mettere la parola a fine Insigne Insigne contro Erai Iskan parte Lorenzigno destro e 3-1 per il Napoli che vince la Qualette Cup vince 3-1 contro il Galatasaray e chiude la partita con una vittoria la prima di venire a San Paolo per tra i migliori in Signe se lo merito grazie a tutti Grazie a tutti.